Ciao bambini, bentornati sul canale di Barbie! La mia piccola adora della figliola adora andare sul cavallo. Ha due cavalli, uno rosa e uno con i capelli biondi. Ma ieri ho guardato un fantastico, fantastico cartone che si chiama Spirit che parla del cavaluccio. Un bellissimo cavaluccio con i capelli castani. È tutto bello, bello. Quindi ho deciso perché non regalargli lo Spirit. Ho comprato il cavaluccio e oggi voglio fargli il regalo. Tesoro, vieni dalla mamma. Sì mamma, sono qui. Ciao bambini, chiediti un attimo. Va bene. Ti devo dire una cosa molto importante. Buono il cagnolino. Comunque, ti devo dire una cosa. Dimmi mamma, sono curiosa. Tesori, cavaluccio, tesoro. Certo mamma, lo sai che ne ho tanti. Sai cosa ho fatto? Ti ho comprato un nuovo canale. Cavallo! Mi hai comprato un nuovo cavallo. Sì, è un cavallo con una nuova amica. Davvero, davvero! Sì, bambini, è uscita la serie TV di Spirit di DreamWorks. Ed esce sul canale Super TV per i bambini. È vero! Io adoro lo Spirit! Allora, ecco il tuo regalo. Guarda un po'. È Spirit con la sua bambolina. Che belli! Sì, aiutiamoli a uscire dal pacco. Sì, è la sua amica Lucchi! Eccomi! Ciao bambini! Ciao piccola bambola! Ciao Barbie! Oggi sono qui per fare conoscenza alla piccola bambolina con il mio cavalluccio. Noi e Spirit! Oh, ciao Spirit! Io ti adoro! Spirit, ti adoro! Sei così bravo! Oh, sono comodissima! Ecco, però devi stare attenta. Spirit non fa amicizia con le persone cattive. Ma io sono brava! Ecco, se tu sei brava, è ora che vai a fare un giretto con Spirit! Certo! Vediamo! Spirit, andiamo! Ehi, che bello fare giri con il cavalluccio! Ora giriamo piano, 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 piano... Ce l'ha fatta! Au! No Spirit! Oh, bambini, siamo caduti perché è scivoloso il pavimento. Oh, sono così comoda? Ok, no, aspetta. Oh, così sono comoda. Andiamo Spirit! Ehi, che bello! Ehi, che bello! Lucky, posso chiederti una cosa? Certo, dimmi pure. Volevo chiederti. Tu hai delle amiche, giusto? Che sono le tue amiche che hanno... Au! Au! Uffa! Ci cavalcano gli amici di Spirit, giusto? È vero, è vero, è vero, ma hai perso la scarpina, tesoro. Oh, ma non lo so dove è, dopo la trovo. Ora mi siedo qui. Quindi, tu mi vuoi dire che conosci tutti gli altri come nel serio? Certo che conosco tutti gli altri. Allora, c'è la mia amica che si chiama... Lo sai, è vero, come si chiama? Ci abbiamo Prue e Ciccalinda. Poi c'è Luke e Spirit, che siamo noi due. E Abigail con Boomerang. Sono tutte le mie amiche. E ci divertiamo un sacco andare sui cavalli. E giocare con i cavalli. È veramente bellissimo. Oh, allora, guarda, questi sono i miei cavalli. E Rosa, bionda, venite qui. Sì. Ciao, Rosa. Ma come sei carina. Che bella, la prova al caranchio. Vediamo se riesco a sedermi sui tuoi cavalli. Oh, sì. Pensavo di non riuscirci. È molto comodo. Sì, e il biondo dov'è? È lì, sta arrivando. Che belli. Sì, sono bellissimi. Ora ti racconto qualcosa sui miei cavalli. Allora, il cavallo su quale sei seduta te? Sì, questa bellissima cavalina rosa. Si chiama Rosa perché ha i capelli rosa. Ed è più grande dei cavalli che ho. Lei mi ascolta sempre e corre molto veloce, lo sai? È velocissima. Abbiamo fatto anche delle gare. Poi bionda, invece, è un cavaluccio. Bello, bello. Ha dei capelli lunghi biondi. Ed è anche molto carina. Però non è tanto veloce perché è piccola. Oh, che bello. Posso proporti una cosa? Sì, dimmi. Cosa facciamo con i cavalli ora? Io penso che possiamo fare delle trecine. Io faccio le trecine a rosa e a biondo. E tu farai la trecina a spirit. D'accordo? D'accordissimo. Che bello. Inizia tu con i miei cavalucci e poi faccio io con spirit. Che senza vita ho un po' paura. Va bene. Ora vediamo. Opa. Io scendo. Fammi vedere i tuoi bellissimi cappelli, rosa. Vediamo. Prendiamo uno, due e tre. Ora facciamo la trecina. Uno, due, tre, quattro, cinque. Oh, ci stiamo riuscendo, piccola bimba. Anch'io qua ci sto riuscendo con spirit. Quattro, cinque, tre, quattro, otto, otto. Oh, siamo pronti. Guarda qua che bella trecina che ho fatto. Bellissima. Sei molto bella, rosa. Ci sta bene. Ora andiamo dal biondo. Vigati, cavalluccia. Oh, che belli i cappelli. Ora provo a farti la trecina. Vediamo un po'. Ops. Mi siedo sopra te. Tesoro mio. Così. Guardiamo un po' come farà la trecina. Ha questo bellissimo cavalluccio. Dividiamo i suoi cappelli per tre. Uno, due, tre. Così. E facciamo delle trecine. Così. Bella trecina. E ci stiamo... Dai, non saltare. Non ti sto facendo male. Ci cavallucci saltano tantissimo quando gli fai delle trecine. Così. Abbiamo quasi fatto un po' di pazienza. Ecco. È pronta la trecina anche del biondo. Oh no, spirit. Spirit ha fatto cadere tutti. Dai. Quando cade così. Quando cade così lo spirit. Quando cade così spirit vuol dire che ha tantissima fame. Quindi ora tocca darle da mangiare. Va bene. Prima faccio le trecine spirit e poi andiamo da mangiare. Vediamo. Oh, spirit ha ancora più capelli che i miei cavalli. Che belli capelli castani. Vediamo fargliela da questa parte la trecina. No, è più comodo da questa ragione. Lucchi. Uno. Due. Uno. Sì. 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 Bellissimo. Oh, solo che i suoi capelli sono così dritti che si slegano. Uffa. Va bene. Io ci ho provato. Sì, anch'io. Ma non ci sono. Spirit, non so che hai fame. Ora andiamo a mangiare. Aspetta. Dai un po' in piedi. Perché hai provato anche te? Sono riuscita a capire che non sono io che non riesco a fare le trecine. È spirit che non vuole. Ti è arrivato il tuo cavaluccio. Bambini, ora noi andiamo ad andare a mangiare ai cavalli. E voi mettete mi piace a questo video. E mi piace a spirit. Perché voi si accede a spirit, vero? Sì, vi piacete. Ciao, bambini. Ciao, ciao, bambini. Grazie, mamma. Che bella giornata.